ben ritrovati con sdm news il primo tg degli sport outdoor di montagna che dedica questa puntata a una super classica dello sky running la sky marathon sentiero 4 luglio a santicolo da 26 anni sempre la prima domenica di luglio si corre la maratona del cielo domenica 2 luglio 2023 26esima edizione della sky marathon prova maraton 42 chilometri 2007 di dislivello mezza maratona 21 chilometri 1.500 di dislivello le iscrizioni sono già aperte procedono anche bene i numeri pettorali disposizione sono 400 sono 200 per la marathon e 200 per la mezza maratona questo numero è dato dal fatto che noi vogliamo veramente coccolare gli atleti che vengono a corte navolgi e più di così non ne vogliamo prendere proprio per questo motivo abbiamo due record storici da abbattere quello di maria poletti e quello di emalumela brizzio sulla marathon durano da troppo tempo quindi invito tutti i top atleti a a venire a corteno perché dobbiamo veramente abbattere queste due record per maggiore info andate sul sito www sky marathon punto it e li troverete tutto per iscrivervi e tutte le info utili che vi possono servire quest'anno tra i protagonisti ci potrebbe essere anche il campione aerobico william boffelli la sky marathon sentiero 4 luglio è una gara che mi ha stregato sin dalla prima volta qui ho partecipato e mi ricordo che una volta arrivato sulla cima a sellero da lì era iniziata una parte veramente tecnica spettacolare tutta fin di cielo la cresta sembrava veramente una lama da lì fino al bivaco davide una gara bellissima si gode di un paesaggio molto affiato e si può veramente dare dare sfoggio alle proprie capacità tecniche e anche vedere un po del nel paesaggio adesso io finito la stagione di sci alpinismo contro il fiume zarama settimana prossimo dovrò sottopormi a un intervento per rimuovere delle viti che mi erano state messe l'anno precedente per un infortunio e quindi nulla se valuterò bene i tempi di recupero e ovviamente compatibilmente con le condizioni e se il recupero procederà come come prestabilito far di tutto per essere ai nastri di partenza e ovviamente anche con una condizione che sia la migliore per me o comunque un'ottima condizione ecco quando si parla di sky marathon sentiero 4 luglio non si può non parlare del suo storico record e del suo record man mario poletti sky marathon sentiero 4 luglio vuol dire la storia la numero uno la più conosciuta la più tecnica la più completa è un percorso che non ti lascia un attimo di respiro e bisogna cambiare continuamente assetto di corsa dove bisogna essere un buon scalatore un buon discesista un buon corridore e essere un atleta veramente completo chi vince qui è un grande campione prima di me mi hanno preceduto grandissimi campioni dopo di me hanno tentato in molti e in molti altri ci tenteranno perché è la gara delle gare a proposito di mario poletti lo scorso fine settimana il suo circuito aerobico è partito con tre primati importanti oltre a quello iscrizioni sono stati segnati quello dei percorsi alla balzurio trail ho vinto avrebbe fatto anche il record quindi sono chiaramente super soddisfatto finalmente sta iniziando ad imparare a gestire le gare un po più lunghe che che per me sono stati un po un tabù sono contento ho fatto un inizio di gara a un ritmo abbastanza intenso per cercare di rimanere solito da solo e poi ho fatto la mia gara in discesa so che me la cava abbastanza bene quindi poi ho diciamo ottenuto e sono arrivato ancora con un minimo di margine possiamo dire stavo bene sono contento mi sono orientata anche bene nonostante non conoscessi tanta parte e gran parte del percorso segnalato benissimo veramente complimenti all'organizzazione mi sono veramente divertita è stato veramente un piacere partecipare a questa gara complimenti a tutti gli organizzatori anche per questa settimana è davvero tutto il nostro consiglio non cambia che siate in allenamento o in gara continuate a sognare osare e non mollate mai